Ciao a tutti, oggi è lunedì 4 giugno 2018, mi trovo qui in fondo a via Livorno, dove finisce via Livorno. Allora, come vedete, qui, oltre questo verde che è una giungla, c'è un marciapiede. Allora, qui la gente è obbligata a passare sulla strada, perché probabilmente si vuole tanto verde in città, vedete? Adesso proseguo, qui c'è la scalinata, quella che porta poi di fronte ai ferrovieri, vedete? Proseguo qui, una puzza tremenda, perché c'è anche qualche, scusate se lo dico, qualche stronzo, che invece di portare gli sfalci dove vanno portati, ovvero alla centrale AMIU, che li abbandona qua. Un ferro da stiro, un'asse da stirare, chi vuole sistemarsi i panni, è lì. Allora, poi dopo vi faccio vedere questa zona qua. Allora, come potete vedere, qui abbiamo un marciapiede che non va bene. Probabilmente in questo punto qui è caduta una macchina e ha portato anche via il palo che l'hanno risistemato. Allora, considerate un fatto. Il pedone che si trova su questo marciapiede, quando una macchina sopra sbanda, che fine fa il pedone? Qui è già la terza macchina che io sappia che viene giù dal cavalcavia. È già la terza. Vedete? Il pedone che si trova qui per i cavoli suoi viene investito. Guardate ancora qui, addirittura il muretto è stato portato via. Allora, eppure tutto rimane così. Cosa mi dice lei? Posso, posso, eh? Va bene? Ok. Vedete qua? In questo stato qui, lo lasciano così. Allora, adesso in un altro video andrò sopra. vedete, abbiamo la città delle transenne. Questa è Alessandria, la città delle transenne. Andrò sopra e vi farò vedere in che stato siamo di sopra. E ne parleremo. Ok. Allora, da Via Livorno, io vi saluto e ci si vede in un prossimo video. Ciao a tutti.